Svelati i primi concorrenti di Ballando con le stelle ecco chi ci sarà. Il conto alla rovescia è iniziato per la diciannovesima edizione di Ballando con le stelle, il popolare show di danza condotto da Millie Carlucci, che tornerà in onda il prossimo 28 settembre. Le aspettative sono altissime e, come ogni anno, le indiscrezioni sui partecipanti stanno già facendo il giro del web, alimentando la curiosità dei fan punto negli ultimi giorni, le speculazioni sui nomi dei concorrenti che si sfideranno sulla pista da ballo sono state molteplici. Nomi di spicco come Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e Federica Pellegrini erano stati menzionati come possibili partecipanti. Tuttavia, solo alcune ore fa, il sito da Gospia ha rivelato in anteprima i primi nomi ufficiali del cast, confermando finalmente alcune delle voci che circolavano. CCO i primi concorrenti confermati per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Nina Zilli, cantante e personaggio televisivo, Nina Zilli è conosciuta per la sua voce potente e la sua personalità affascinante. La sua partecipazione promette spettacolo e grande intrattenimento. Luca Barbareschi, attore, regista e produttore, Barbareschi è una figura poliedrica del mondo dello spettacolo italiano. La sua esperienza e carisma saranno sicuramente un valore aggiunto per il programma. Massimiliano Ossini, conduttore televisivo e giornalista, Ossini è noto per la sua eleganza e professionalità. La sua presenza sulla pista da ballo sarà senza dubbio interessante da seguire. Marina Morgan, attrice e presentatrice, Marina Morgan porta con sé un bagaglio di esperienze diverse che la rendono una concorrente intrigante. Enrica Bonacorti, volto storico della televisione italiana, Bonacorti è una delle personalità più amate dal pubblico. La sua partecipazione è attesissima dai fan di tutte le età.Federica Pellegrini, la campionessa olimpica di nuoto, Federica Pellegrini, non ha bisogno di presentazioni. La sua grinta e determinazione sono già leggendarie e vederla cimentarsi in una nuova sfida sarà entusiasmante. Questi sono solo i primi nomi ufficiali confermati per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La lista completa dei concorrenti è ancora in fase di definizione e nuovi nomi potrebbero essere svelati nei prossimi giorni. La curiosità è tanta e i fan dello show sono già in fermento. La nuova edizione di Ballando con le stelle promette di essere un mix esplosivo di talento, emozione e spettacolo. Continuate a seguirci per non perdervi i prossimi aggiornamenti e spoiler sui partecipanti. Il 28 settembre si avvicina e con esso una nuova stagione di danza e divertimento su Rai 1.